Sulla questione Superbonus anche Lancia ha espresso tutta la sua preoccupazione e indignazione. L'emendamento del Ministero dello Sviluppo Economico al decreto del 26 marzo mette in fibra l'azione il mondedile. All'estensione a dieci anni del rimborso fiscale dei crediti del Superbonus si sommano le ripercussioni che queste modifiche potrebbero avere anche sulle imprese e sui loro piani di investimento. Per i costruttori il recupero dei crediti in dieci anni anziché in quattro è insostenibile, una modifica che andrebbe a colpire le operazioni già effettuate dal 1 gennaio 2024 con impegni di spesa già assunti. Ma a noi non preoccupa i dieci anni cinque, a noi preoccupa proprio la stesura, la confusione, l'illegibilità di ciò che scrivono questi signori che ci rappresentano al governo, ma oltre ce le male anche di sesti finanziari economici e di proiezione per il futuro. Come si può stabilire e definire un bilancio anche familiare, figura di imprenditoriale con dei cambiamenti che non si ha più la sicurezza e non si ha più la fiducia di questo governo? Eppure sono 54 anni che io faccio impresa e ne ho visti di governi, dalla prima ancora della prima repubblica alla terza, io mi trovo alla sesta repubblica. Ma un dissesto, una cosa che si è verificato, in questo ultimo anno non si è verificato nei 50 anni di imprenditorialità che ho svolta, perché un governo è il capofamiglia, il riferimento non è il capofamiglia soltanto il presidente del Consiglio che viene all'Aquila a fare soltanto campagne elettorali. Si tratta della 32esima modifica al superbonus per i costruttori, che crea ancora una volta tante incertezze, imprese allo stremo e i rischi sono diversi, contenziosi che potrebbero aprirsi e blocco dei cantieri. Hanno fatto le campagne elettorali e poi dopo 15 giorni dalla chiusura dei seggi, dalla chiusura della regione Abruzzo, hanno fatto pasta indietro e sono venuti a retrocedere di quello che avevano promesso. E' qui che non si riesce ad accettare quello che sta succedendo. Ma che ce l'ha ordinato il dottore di finire questa ricostruzione? O ce l'ha ordinato il dottore, oppure questo governo a chi vuole prendere perfesso? Stanno mandando in apparto e non si fa un osservatorio, né tanto meno si fa quello che potrebbe essere la pubblicazione degli apparti delle PNRR. Hanno mandato in apparto, ma senza progetti e addirittura adesso si sono aggiudicate le care, ma non possono iniziare i lavori per PNRR perché sono sprovvisti di progetti.